Collaboro con Ampas per la gestione degli eventi sanitari allo stadio. Oggi abbiamo fatto una cosa molto importante, abbiamo simulato una maxi-emergenza, quindi un evento raro, per fortuna nella realtà, che coinvolga un grosso numero di feriti, più o meno gravi. Questi feriti sono stati truccati per dare realismo alla situazione, dopodiché sono stati accompagnati fuori dal luogo dell'evento e quindi ospedalizzati nel giusto ordine, o meglio nell'ordine in cui si riusciva a fare, verso gli ospedali più vicini. Nella stessa sessione abbiamo simulato anche un intervento in campo, quindi un intervento per un grave malore, un arresto cardiaco di un calciatore in campo, simulando tutte quelle che sono le procedure che dovrebbero essere messe in atto nella realtà nel caso in cui questa situazione si verificasse. Da tutta questa simulazione, sia l'una che l'altra, trarremo dei suggerimenti per il futuro e per migliorare l'assistenza presso lo stadio.